Non riesci a stampare il progetto a cui hai lavorato tutta notte? Devi stampare un preventivo importante e la stampante non va? Non sai come collegare il tuo picciolo a stampante e sei bloccato? No! Fermo! Rilassati e affidati a Coping Broker, azienda leader nel settore del noleggio fotocopiatrice stampanti dal 1996, presente in tutta Italia con oltre 50 centri assistenza.